Ciao a tutti, l'elicottero che vedrete in questo video appartiene al mio amico Paolo ed è una semieriproduzione della Pache, un velivolo d'attacco avanzato impiegato in missioni anticaro, assalto, scorta e caccia antielicottero da svolgere in ogni condizione di tempo e di luce. Il modello è dotato di giroscoppio per una migliore stabilità e di un pulsante antipanico che lo riporta automaticamente in volo livellato in caso di necessità. Grazie a tutti. 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 Ciao.